In questo capitolo creeremo un DVD professionale aggiungendo un menu DVD al progetto. In questo esempio utilizziamo il filmato campione caricato quando studio viene avviato per la prima volta. Può essere caricato anche utilizzando il menu guida. Fai clic sulla scheda disco. Se utilizzi una versione premium di studio, puoi masterizzare anche dischi Blu-ray. Dato che hai aperto un filmato, studio chiede se desideri creare un progetto disco dal filmato aperto. Quando fai clic sulla scheda disco, studio apre una copia del filmato nella finestra di Authoring Disco. Nella parte inferiore è presente una vista della timeline che mostra una copia del filmato. L'area al di sopra è chiamata Elenco menu. Qui puoi aggiungere menu che consentono di collegare i capitoli al filmato. Nel riquadro al di sopra potrai inoltre notare la versione compatta della libreria. Sebbene vi siano numerosi menu professionali da cui scegliere, i tipi principali di menu sono due. I menu sono chiamati Principale o Secondario. Il menu principale viene visualizzato quando il DVD viene riprodotto per la prima volta. Il menu secondario può essere usato per selezionare singoli capitoli del filmato. Di solito sono chiamati menu per la selezione scene nei film professionali. e sono dotati dei pulsanti Avanti e Precedente qualora vi siano numerosi capitoli. Scegliamo ora il tema del menu. Trascina il primo menu principale dalla Libreria all'elenco Menu. Potrai osservare che il primo capitolo è già stato collegato al primo pulsante del menu e un ritorno è stato impostato alla fine. Dopo aver aggiunto un menu principale all'elenco menu, seleziona il menu secondario e trascinalo nell'elenco menu dopo quello principale. Fai clic sul pulsante Procedura guidata Capitolo nel menu secondario. È così possibile creare automaticamente i capitoli e collegarli ai menu. Sono disponibili alcune opzioni. I capitoli possono essere collocati in posizioni ottimali nel filmato, ad esempio in corrispondenza dei punti di taglio ogni 10 secondi come selezionato qui. Possiamo inoltre collocare marcatori di capitolo nelle posizioni dei marcatori della timeline. Scegliamo l'intero filmato e lasciamo che Studio colleghi i capitoli ai pulsanti di menu. Se non desideri tornare al menu principale dopo ogni capitolo, puoi lasciare questa casella deselezionata. Seleziona OK. I capitoli vengono creati e posizionati nella traccia dei capitoli. Nota che Studio ha creato più capitoli rispetto a quelli disponibili in un unico menu secondario. Per gestire questi capitoli, ha aggiunto automaticamente più menu secondari, in modo da mettere a disposizione un numero di pulsanti sufficiente nei menu per collegare tutti i nuovi marcatori di capitolo. Davvero ingegnoso! Osserva inoltre i diversi colori dei menu. Il menu principale ha uno sfondo di colore blu chiaro, mentre i menu secondari hanno uno sfondo giallo. Anche i marcatori di capitolo e di ritorno presentano un determinato colore che indica quale menu sono associati. Questi marcatori indicano che non abbiamo ancora collegato il pulsante Selezione scene del menu principale al menu secondario. Facciamolo ora. Fai clic sul menu principale. Seleziona il punto di domanda nella finestra anteprima e trascinalo sul primo menu secondario. I menu secondari sono ora accessibili dal pulsante Selezione scene del menu principale. Se desideri rinominare un pulsante di capitolo, fai clic sul nome del pulsante visualizzato, cambia il nome e vai al pulsante successivo. Utilizziamo ora la funzione di simulazione per verificare come funziona il DVD in un lettore DVD vero e proprio. Fai clic sul pulsante Apri simulatore disco. Fai clic sulle miniature dei capitoli o sui pulsanti nell'anteprima del simulatore per riprodurre il disco appena creato. Oppure, utilizza le frecce su, giù, sinistra e destra per spostarti da un menu e da un capitolo all'altro. Fai clic sul pulsante centrale quando hai evidenziato un pulsante per attivare la selezione. Se sei soddisfatto del tuo capolavoro finale, fai clic sulla scheda Esporta per masterizzare il disco o scrivere un'immagine disco. Salve! Sono Paul Holtz di Class On Demand. In questo capitolo introduttivo abbiamo esaminato brevemente la potenza creativa e la flessibilità di Pinnacle Studio 16. Se desideri ulteriori informazioni sulla creazione dei tuoi filmati con l'acclamata tecnologia Pinnacle, scelta da milioni di utenti in tutto il mondo, ordina la tua copia del corso completo di Class On Demand per Pinnacle Studio 16 sul sito web Pinnacle. A nome di Pinnacle e Class On Demand, ti ringrazio per l'interesse dimostrato.